Ogni scarto o rifiuto industriale abbandonato in campagna o nei canali diventa una vera e propria bomba ecologica che abbiamo il dovere di disinnescare. Non usa a mezzi termini l'amministratore unico di Barsa Michele Cianci nel commentare i diversi episodi di abbandono e discriminato di rifiuti ingombranti sulla costa della città di Barletta. Il ritrovamento in ben due circostanze di scarti di lavorazione di opifici ha spinto Cianci a scagliarsi contro chi commette un vero proprio il reato ai danni dell'ambiente. Stiamo effettuando ha spiegato l'amministratore unico di Barsa verifiche quotidiane e le continueremo ad effettuare fino a quando non incastreremo questi criminali senza scrupoli. Nei giorni scorsi abbiamo rimosso i rifiuti che stavano per inquinare il mare di Barletta ma ciò non basta occorre risalire all'origine del problema. Cianci ha spiegato come di concerto con l'amministrazione comunale di Barletta ed in particolare con l'assessore all'ambiente Ruggero Passero sia stata acquisita documentazione fotografica di scarti gettati nel canale Ciappetta Camaggio. Tali scarti percorrendo il flusso d'acqua finiscono direttamente nelle acque marine provocando un danno ambientale irreparabile e diventando vere e proprie bombe ecologiche da disinnescare. Da Cianci arriva infine un appello alla coscienza di chi si rende responsabile di tali gesti. Fermo restando, conclude, che gli esecutori materiali di questo scempio insensato e spregevole ne pagheranno gravemente le conseguenze nelle sedi opportune.